Seconda tappa della terza edizione del The Wine Award, un evento di casa Land Rover nato per celebrare nel 2010 i 40 anni del marchio Range Rover, ma poi è divenuto proprio un evento tipico del nostro marchio per celebrare questa seconda tappa che è proprio dedicata alla valutazione dei migliori vini autoctoni italiani. Anche in questo caso abbiamo 18 vini in concorso, quindi sei vini dedicati al nord Italia, sei al centro e sei poi nell'ultima tappa dedicati invece al sud Italia con poi la nomina del miglior vino autoctono 2013. Decisamente The Wine Award è anche un'opportunità per far provare alla stampa italiana, agli opinion leader del nostro mondo, quella che è la gamma Land Rover rinnovata. Presentiamo in questa occasione la nuova Range Rover Sport da poco sul mercato italiano, è già veramente un best seller e la nuova Range Rover Evoque il Modellier 2014 che si vede arricchita di un nuovo vezzo tecnologico che è rappresentato dal cambio a nove marce.